Non esiste nulla di completamente sbagliato nel mondo, persino un orologio fermo riesce ad avere ragione due volte al giorno. La vita è una successione di illusioni, l'importante è non fermarsi mai a una sola. La musica è un po' come l'aria che respiriamo, non la vediamo, ma senza di essa non potremmo vivere. La felicità è una strada da percorrere, non un luogo in cui arrivare. L'arte è il luogo dove l'anima dell'uomo incontra l'infinito. La conoscenza è il viaggio più importante che possiamo intraprendere nella vita. La bellezza è il riflesso dell'armonia interiore. La verità è come un diamante, ha molte facce e ognuno la vede da un punto di vista diverso. La libertà è il diritto di essere se stessi senza paura del giudizio degli altri. L'amore è l'energia che tiene insieme l'universo, è la forza più potente che esista.